La diretta televisiva della Supercoppa Italiana 2017 organizzata dal Subuteo Club Real Tripolitania La sfida di stasera è tra la squadra vincitrice del campionato di Serie A 2016-2017 cioè la Lazio di Bernardo Mami contro la squadra vincitrice della Coppa Italia 2016-2017 che è il Milan di Simone Di Tullio L'arbitro della serata è Roberto Di Carlo è una partita importante per il Subuteo Club Real Tripolitania perché per la prima volta vi sarà la VAR L'arbitro alla VAR è Lorenzo Sipilla Questa partita è anche in diretta Facebook La diretta Facebook abbiamo Ferdinando Milazzo Il commento televisivo e la ripresa video è a cura di Raimondo Rodio Quindi amici videospettatori a questo punto del canale YouTube di tutto il mondo e amici videospettatori della diretta Facebook Un saluto a tutti da parte del nostro club Diciamo subito che la Lazio schiera in porta Stracoscia Basta, Bastos, De Vrij e Radu Lulic che è il capitano Lucas Leiva Parolo Luis Alberto Milinkovic e Immobile Risponde il Milan Con Donnarumma in porta Poi abbiamo Abbate Bonucci Musacchio Rodriguez Biglia Kessie Buonaventura Kalanoglu Suso E Kalimic Abbiamo detto che Intanto attenzione che c'è un ottimo attacco da parte della Lazio Il tiro ma Viene Deviato Il tiro era di Luis Alberto E viene deviato Da Musacchio C'è una rimessa laterale Da parte della formazione bianco celeste E si rifugia In corner Capitan Bonucci Riconoscibile per la fascia di capitano Sopra la manichetta E va fuori il tiro Va a tiro Angolo Intanto c'è il primo angolo della serata La Lazio e il Milan Giocano con le magliette tradizionali Quindi A beneficio di chi ci sta vedendo Sia su YouTube Sia su Facebook In diretta La Lazio è nella tradizione maglia bianco celeste E quindi La base È bianca Altro angolo La base bianca Con inner Azzurro L'inner A beneficio di chi Non è Dentro Ai termini subuteistici È la parte superiore Della base Mentre invece Il Milan Gioca con la tradizione maglia Rosso nera Base Tanto attenzione al tiro È peccato Niente Base Nera E inner Rosso Parte in contropiede Il Milan In questo momento Ma la Lazio si rende ben schierata Attenzione 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 E c'è il tiro gol E c'è il gol Gol del Milan Con Jack Bonaventura Jack Bonaventura E il Milan Che è In vantaggio Qui all'Olimpico di Roma Al minuto Numero 5 Va fuori C'è un'interruzione Un attimo di interruzione Mentre l'arbitro va E ricordo i nostri sponsor Di R pubblicità Via Fezzan 14 Un'altra nostra pubblicità È Pinocchio Toys Pinocchio Toys Via del T2124 Siamo arrivati al sesto minuto Sesto minuto Sesto minuto Sesto minuto Ecco qui la Lazio C'era un inconveniente tecnico La Lazio avanza Perché vediamo adesso la reazione La reazione Presa Era mira Era mira Quindi punizione Aspetta che punizio Vabbè Faccio vedere le mosse Ormai è fallo Rimane domani Questa è un po' di gioco Sì Messa davanti nel Milano E tocca al Lazio Ferdinando Ti chiedo un attimo Una tua impressione Su questa partita Di adesso No Si può mettere qua No Si Vede che le due squadre Sono molto concentrate Finora è abbastanza equilibrate E intanto La rimessa laterale L'abilità però Siamo 1-0 Ricordiamo 1-0 per il Milan Ricordiamo ancora Che questa partita È trasmessa Non soltanto Su canale Youtube Sul canale Su video club E altre Voletania Channel Ma è in questo momento In diretta Facebook Quindi È un diretta Social Quindi Un saluto A tutti coloro Che in questo momento Ci stanno seguendo In diretta Social La Lazio Che avanza E c'è un calcio Di finizione Ad opera È stato Chessier Che ha bloccato Sul nascere Questa Iniziativa Bianco Celeste Pensiamo un attimo In cronaca In questo momento È parolo Questo è fuori gioco? Sì Vediamo Gli sviluppi Di questo calcio Di punizione Tutto chiuso Il muro E c'è un muro Di maglie Rosso Nere Intorno alla palla Adesso diventa difficile Per la Formazione Bianco Celeste Scardinare Questo muro Però C'è un gioco È però È ovvio Che ripassa Era impossibile Per Era impossibile Vero Ferdinando Non è sì Troppo stretto Adesso riparte Riparte Il Milan In contropiede Attenzione Che Prima È stato Niente Questa volta Però Sì Terzo Secondo Terzo Era Luisa Alberto Vediamo Vediamo Lulis Centrocanto Rientro Il gioco Di immobile E c'è la Mossa Difensiva A beneficio Per chi Per chi Non conosce Il regolamento Del Subbude Club In Attico Italia Nel regolamento Del subbude Club Non esiste Non esiste Il Beck Perché E c'è un Caccio Di punizione Il Bec Tanto caro Nei regolamenti Nei regolamenti Del subbude Tradizionale Non esiste Il Beck Perché La filosofia Di gioco Del Club Nostro E' Quello Di Miniaturizzare Il Più Possibile Il Gioco Del Calcio Vero E Quindi Il Nostro Regolamento E Il Più Possibile Vicino Vicino Al Gioco Del Calcio Dove Non esiste Il Beck Così Come Non esistono Ad esempio I Calci Piazzati Non Sare Riusci A Rientrare Nel Calcio D'ango Batti Con Questo Quindi Nel Regolamento Di Gioco Del Subbudeo Personalizzato La Maggioranza Delle Regole Sono Quelle Del Gioco Del Calcio Vero Soltanto Là Dove E Strettamente Necessario Sono Rimaste Regole Subbudeistiche Attenzione Attenzione Riesce In tempo Vediamo Quest'occasione Gol 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 E c'è il Pareggio Attenzione Pareggio Della Lazio Con Non abbiamo Visto Con Radu Si è spinto Radu Si è spinto Radu E con la forza Della disperazione A questo punto Lazio Al dodicesimo È riuscito A pareggiare Ferdinando Sembra Un incontro Veramente Bello A questo punto Si si La Lazio Ha reagito Subito Sembrano Voto Sul pezzo Entrame Le squadre C'è un trofeo Questa sera In ballo E quindi Sono tutte Le vedo Concentrate Squadre Concentrate E motivate Ricordiamo Anche LR Immobiliare Nel frattempo In Viare Somalia 6 Fanno sempre parte Degli sponsor Del club Nel frattempo Nel frattempo La Lazio Ha conquistato Un Fallo Laterale La regola Del fallo Laterale Del subito Club È che Può Entrare In campo La miniatura Ma deve essere Subito Immediatamente Rimessa Come ha fatto Adesso Della Lazio Immediatamente Rimessa Sulla linea Dove Ha Effettuato La rimessa Laterale Ecco qui È il Milano Adesso Che Va in attacco Ma Vediamo Una E c'è La palla Che va A Stracoscia Effettua Il portierino Il rinvio Bene È la Lazio Che va E attenzione Attenzione Presa Ah Però si è posizionato male Purtroppo Per Secondo te Sei Lucas Leiva Lucas Leiva Che adesso Può passare La palla E però Che posiziona Molto male Al 18 Che è Luisa Alberto Vediamo Quest'azione Fra Leiva E l'Alberto Però Il Milan Questa volta Ha la meglio La difesa Nionista Riesce Ad averla meglio E adesso Si porta Pericolosamente In attacco Vediamo Vedere Meglio Attenzione Anche qui È Milano Che rientra Fuori gioco Mossa difensiva Del Lazio E adesso È Palla La Lazio Deve Sare Molto attento In questo Giocchetto Perché Ovviamente È Pericolosissimo Riesce In qualche Modo In qualche Modo La difesa Della Lazio Riesce A sbrogliare Una situazione Che era Difficilissima Ah E allora Sul tiro Di Lucas Leiva Il palo E poi Donna Rumma Se l'è trascinata Dentro E quindi È cambiata Nuovamente La situazione Adesso Siamo 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Per la Lazio Ferdinando Milan Milan All'Olimpico Finisce Con il risultato Di 2 a 1 Per la Lazio Prima Di andare A risponditorio Intervistiamo Bernardo Bambini Allenatore La Lazio Come sta andando Questa Buonasera La partita È difficile Perché Simone È un avversario Molto Molto Ostico Però Ce la stiamo Giocando Speriamo Bene Nel secondo Tempo Di mantenere Il risultato E incrementare Il vantaggio Certo Il punteggio Di 2 a 1 È molto pericoloso Avendo di fronte Un grande avversario Benissimo E allora Il primo tempo Termina Sul risultato Di 2 a 1 Videospettatori Arrivederci Alla Secondo Tempo